Amici del grande wrestling, il bardo Michele Posa e il padrino Salvatore Torrisi e il Godzilla Luca Franchini sono qui per dire grazie ad alcuni di voi perché ci avete mandato dei ben regali inizio io, guardate un po' cos'è, un regalo? Artù, Rainbow, tutte le poesie chi ce l'ha mandato? me l'ha mandato Giovanni Rauccio usando la mia wishlist di Amazon cioè, perché voi non... ho fatto la wishlist ho fatto la wishlist, Marcione per farci mandare i regali non lo fanno nelle starlette esatto, è un libro che non costa tanto ma che è apprezzatissimo e vale più dei soldi che sono stati spesi ma ci sono un sacco di regali per acquistarlo, sì abbiamo dei regali anche per te Salvatore ci li manda Simone De Bellario che è un ragazzo che viene a giocare a Magic con me al Playtime di Lecco e ci ha mandato un pacco a testa ce n'è uno anche per Andre Stallion che lo ritiro io, ok? qui c'è il padrino Salvatore Torrisi questo è per te e questo è per me e apriamone uno a testa iniziamo da te, Franchini è il più vecchio apri il foglietto c'è il foglietto ah, c'è anche un foglietto l'avrà scritto in geroglifici il Godzilla Luca Franchini vediamo un po' cosa c'è scritto eh, un momento non voglio dire parolacce ce la farai hai già distrutto tutto, Frank buon Natale allora, c'è scritto tu come leggendario bread in men are I'm the best berries the best berries was and the best adoro Luigi, auguroni grazie sempre a Forza Inter eh, purtroppo il vostro biglietto è un fronte telecamera è bello è andato mando Udinese vabbè eh, vabbè friulani lo sappiamo vabbè da Cordenone Udinese esatto gli hanno fatto l'assist ok ciao, vediamo cosa ti ha regalato vediamo cosa c'è dentro allora apriamo quella del Godzilla una maglietta una maglietta di chi? 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 Simbelor? 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 Simbelor club Simbelor club Simbelor club grazie come si chiama ragazzo? Simone De Bellani grazie Simone grazie la metterò prossimamente durante i lanci eh che facciamo Rosman grazie vediamo Salvatore cosa gli è successo vediamo cosa c'è questo su questo biglietto non è scritto forse internet ma bella questa storia qua dei regali di notare bene dovremmo farlo grazie per tutto il lavoro svolto finché con Luca mi chiede se il terzo membro essere già un membro il triple crown dei commentatori di Wrestling di Skype Simone è un appassionato anche di Wrestling giapponese quindi il riferimento che hai letto era non mi sarei mai aspettato apriate vediamo per le squarcias siamo sbirgatici di questo spizzer chi è? sarà? sarà? una maglietta che bella colorata cos'è questa? maglietta di di Kurt Angle la maglietta dell'American Hero asila così si fa ma stavo guardando Paco Giuda ma è bellissima cioè così no? ma tu lo sai che Kurt Angle era il mio preferito prima quindi è bella Steel City perché vedi che assomiglia al più gustile sì certo lo vedi fino a forga sì beh qua Sanvatore devo svelare Altarino lui mi ha chiesto quali erano i tuoi preferiti gli ho detto cortenco le Daniel Bryan allora è andato a colpo sicuro e perché a me è arrivato il best club? probabilmente non è quella di Fandango era finita io gli ho detto che voleva Fandango a tutti i costi ma che bello va bene manca la mia vediamo un po' sarà? possiamo aprire il biglietto che mi sono allora vediamo Simone cosa mi scrive un maestro un oratore un amico un vero professionista se non esistessi bisognerebbe inviare grazie e adesso scarpa via il regalo scarpa via il regalo ma al tempo ti aveva già regalato la maglietta di Elias e adesso arriva la maglietta sarà 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 Daniel Bryan no Bruce and Wayne Pete Dunne che nella prossima puntata di NXT combatte con 3-7 hai visto sa che a me piace molto secondo me Pete Dunne ha disputato a NXT il miglior match del 2017 e allora è rimasto legato alle mie preferenze grande figata allora ringrazio un po' tu a me non mi viene a mettere il nome Simone Simone grazie Simone grazie di cuore dal Godzilla dal Bardo dal Quadrigo con la Rianna Stamon invece la vendiamo al mercato adesso al mercato esatto va bene grazie auguri buon Natale a te a tutti ok dalla triade dalla triple crew esatto di Sky Sport dai nei prossimi lanci nelle prossime avventure Sky mettiamo le masette ne mettiamo sicuramente ciao vai schiacciare ciao 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 ciao